buongiorno a tutti benvenuti esatto sul nostro shop per poterci supportare oggi ci sono ragazzi delle skin fantastiche guerra del futuro ma prima oggi abbiamo 22 gennaio 2021 ragazzi 2021 ma prima di iniziare ragazzi vi ricordo in basso a destra supporta un creatore sì sì game eccolo qua ragazzi questo qua scrivete falco game sì sì accettate così durante il vostro shoppare i vostri acquisti ci sopportate in maniera gratuita sì vai insomma subito con guerra del futuro io vedo delle skin ragazzi di the knife ha visto dei film tanti questo è chi è terminator terminator ragazzi terminator vabbè io l'ho visto eh non lo so allora andiamo avanti allora questa è uscita oggi ragazzi epico epico sarà connor lo sai cosa vuol dire epico che è più raro del rarissimo rarissimo uuuh guardate ragazzi 2800 vbac invece che 4400 il costo per 7 oggetti iniziamo subito era una semplice ragazza di los angeles ma il destino aveva grandi piani per lei fa parte del set guerra del futuro prima parizione capitano due stagioni 5 andiamo a vedere sarah connor non ci posso credere è lei è lei è lei è lei è lei ragazzi ora perché c'era un grafico un po' bassa ma se no era bellissima giusto papà eh sì è lei è proprio lei giusto papà sì sì andiamo avanti andiamo avanti questo cos'è nooo di quello robot eh sì di terminator braccio endoscheletrico t800 ma non è un robot quello che ci creiamo con le nostre mani fa parte del set guerra del futuro prima parizione capitano due stagioni 5 stagioni 5 andiamo ora nella skin ragazzi vediamo poi cosa abbiamo ragazzi non ci credo oh my god ragazzi è fatto benissimo è proprio lui terminator ragazzi ma vuoi vedere che c'è tutto il set qua eh ma ora vuoi vedere che è che è a pezzetti e costa già di meno è proprio lui è proprio lui non ci credo è terminator terminator ragazzi vediamo vediamo lo zaino nooo haplink hk snyet fa parte wow 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 la resistenza verrà terminata eh sì eh sì eh sì andiamo sul cortello andiamo sul coso sul cortello c'è anche un ballo vedo in fondo un bel po' di nuovo ragazzi cortello da combattimento nessun destino mamma mia ragazzi questo è veramente tanta roba poi abbiamo ascia con impugnatura tecnica wow ha un autentico poter di spezza barriere ok guarda ragazzi ragazzi qui c'è il film qui c'è un film cut certo che però fortnite fortnite mette mette delle delle skin veramente no questa uuuu non ci credo nooo ragazzi questa ragazzi questa alla fine del film terminator ragazzi ve lo devo dire anche chi non ce l'ha visto quando terminator viene ucciso che si viene sciolto si uccide più di altro e quindi viene si cala dentro questa lava fusano e fa questa questa mossa si vede fino alla fine il braccio mentre lui scende viene sommerso dalla lava c'è questo pugno alzato che fa pollice in su e si infiamma tutto non ci credo ragazzi grande epigame grande grande saluto epigame si si è fantastico bravi bravi il nostro codice che non sarei opachi è falcore game falcore game ragazzi senza l'erre finale questo ecco questo è una nooo questo l'abbiamo visto papà andiamo avanti ok ragazzi andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti bisogna fare indietro perchè qua abbiamo finito ok in evidenza nooo cos'è questa cosa ma cos'è cos'è no si è stato uno scaletto o sciegallo squaloso copri ti dispendi di squaloso fa parte del set frenesi alimentare capitolo 2 stagione 3 wow wow ragazzi no ma io questo lo avevo già visto è veramente un amore è veramente un amore ma è un amore cos'è questa cosa qui ma potremmo farlo perchè ne vale perchè ne vale ragazzi perchè ne vale guarda no cioè guarda la coda si come si muove la coda vediamo poi ovviamente dietro ok 1200 wbac bellissimo stili ok no cos'è che cambia cos'è che cambia osserviamola non so cosa stili perdere la vita da un morso la coda la coda la coda c'è la coda qui c'è la coda e qui non c'è la coda però gira ok prendi vita a un morso alla volta fauci denerone andiamo avanti vedrai macello rilassati per prerrarti maschile vabbè questa è un po' la missione maschile ragazzi non è molto certo non è uguale è più è più maschile è più per i maschi per i maschi esatto vediamo adesso andiamo avanti andiamo avanti poi abbiamo bella squadra no no fantastico cioè qui c'è un'animazione quasi cioè è molto reale cioè tutto il va a vedere tutto il mordente del volo fa parte del set frenesia alimentare prima apparezione capitolo 2 stagione 3 1500 ti rendi conto io questa animazione ce l'ho ce l'ho ce l'ho questa animazione però in versione scheletro davanti lo spai via eh sì 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 è vero è vero è vero è vero quello gigante quello bianco non lo ricordo schiaffo dello squalo la potenza dello squalo è tutta la comodità di uno schiaffo fa parte sempre il set frenesia alimentare in versione capitolo 2 stagione 3 papallo sai che dimmi che fra poco ci arriveremo se c'è cosa sul pal battaglio ci sono delle ali che ali le ali e il paracaduto che sono delle ali davvero bellissimo dai dai ci prepariamo andiamo avanti squalo mostra il tuo stile fa parte hai scelto un whack questo questo è bello questo è lo squalo stanno ricordandoti per esempio l'isola di fortnite lo squalo oh oh ragazzi bomba bolla eh comando caramelloso fa parte il set bomb bla 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 prima prezzo di stagione x mi sembrava un po' shaolin vabbè andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti allora andiamo tutto rosa tutto rosa bomba bomba io non vedo l'ora di arrivare ai balli ai balli io mi piace nella sezione dei balli si ma secondo me siamo vicini ragazzi si muovono davvero eh si si muovono si muovono vai andiamo avanti bella 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 poi che abbiamo poi poi rompi i palloni guarda si muovono papà papà guarda prova a fare l'animazione ah si può fare anche qui l'animazione forte prima persona stagione x stagione 10 andiamo avanti mossa è il tuo stile ecco qui c'è uno stile delle bolle esplosive andiamo avanti l'abbiamo visto andiamo no dai non ci sono i balli eccoli ok poi passiamo a anfibio acquatico dalle umide profondità del teatro di pose dello studio b prima presenza di questa stagione 4 si si sono funzionabili bellissimo oh cavolo bellissimo oh mamma mia no 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 bellissimo ragazzi ci sono delle schiene veramente oh mio dio mamma la pupilla la pupilla dove la pupilla cos'è questa lingua di fuori troppo forte oddio ci mangia tutti questo mondo 2000 vbac ragazzi 2000 vbac questo l'abbiamo visto andiamo avanti si poi andiamo avanti vai no predatore della palude la regina degli forse questo l'ho vista di trini prima apparizione stagione x800 vbac molto no ha pure il fango se c'era la grafica più alta si vedeva più fango è vero un po' si si è bellissima è bellissima questa va dimmi va utilizzata con fortezza furtiva dove c'è cosa aeroplano di carta no ragazzi chi non ha fatto un aeroplano di carta a scuola un ottimo ma questo aspetta di battaglia questo 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 attenzione che c'è scritto c'è qualcosa ci sono gli indizi immagini ci mettono degli indizi un ottimo foglio volante quello cos'è un alieno il calcio prima apparizione stagione stagione è un alieno c'è qualcosa qui si è stampato qui dai andiamo avanti è complicato attira attenzione prima apparizione stagione 3 500 v-back 500 v-back ragazzi 5 passo doppio oh bello bello non basta eh sì uno no prima apparizione capito 2 stagione capito 2 stagione 500 v-back ovviamente spero che non si sente per il video del copyright bella 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 andiamo avanti no weeey voglio pizza party delizioso fa parte del set pozza della pizza ragazzi è da ieri che vedo pizza 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 ieri no ma io cosa vorrei comprare prima apparizione stagione x200 v-back forse dopo lo compro mamma mia è bellissimo weeey voglio la pizza è arrivata andiamo la pizza è arrivata arrivata andiamo papà è cominciato te che sì andiamo 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 avanti ok abbiamo finito ragazzi ma queste sono sempre sì sempre disponibili the the craft sono sempre disponibili queste a tempo questi sono disponibili e poi il post battaglia che ragazzi vi svelo vi svelo che io ho ho acquistato predator non è che l'ho comprato c'è un modo che dopo c'è una sfida in una live ve lo spiegheremo in una registrazione allora supporto un creatore in basso a destra ragazzi mi raccomando oh oh no che è che è successo oh no falcor allora falcor no maiuscola no e ragazzi falco game accetta falco game ragazzi mi raccomando ma come fai non l'ho memorizzato il computer ragazzi bisogna aggiornarlo ogni 14 giorni mi raccomando ogni 14 giorni quando non vedete il codice rimettetelo grazie grazie per favore per favore vi prego fate come vi pare cioè se volete supportarci noi siamo qui ciao a tutti mi raccomando scrivete nei commenti qual è la skin di oggi che vi vi piace predator a me predator no a me mi piace predator terminator predator insieme a terminator e si ragazzi siamo alla fine siamo alla fine del shop stavo per dire la live mi raccomando pollice in su mi raccomando condividete il video con i vostri amici in effetti siamo in premiere però siamo in premiere noi è vero è vero ciao ragazzi ciao ragazzi ciao a tutti ciao ai nostri pietro ciao ragazzi sopate 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 divertitevi fate bravi da faccio ciao 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 Grazie a tutti